Basta con l'abbandono selvaggio ed indiscriminato dei rifiuti, quella che poteva sembrare una minaccia fine a se stessa per scoraggiare i maleducati, diventa realtà, con l'installazione delle telecamere in alcuni siti dove sono posizionati i cassonetti per conferire rifiuti. Secondo l'amministratore unico dell'SM, Francesco Rosettini, l'occhio della telecamera sarà un utile strumento per scovare chi non rispetta la legge. Nel dopo terremoto, infatti, si è registrato un aumento degli abbandoni selvaggi dovuti molto spesso allo svuotamento delle case per le ristrutturazioni. Prima del sisma, basta guardare i dati, si producevano infatti 280 tonnellate di rifiuti, ora si arriva sino a 2000 tonnellate. Da settembre poi, gli uomini dell'SM saranno operativi e potranno anche fare le multe, di ausilio dunque alla Polizia Municipale, in tal modo da rendere i controlli più capillari. Saranno aperti anche i sacchi lasciati nei cassonetti, saranno inviate cittadini buste di immondizia con codice a barre, che poi saranno aperti a campione. Per quanto riguarda invece i lavoratori, il Comune dell'Aquila sta predisponendo la delibera che autorizzerà il personale interinale chiesto dall'SM. Si tratta di otto unità da impiegare per il trattamento delle macerie. La questione aveva scatenato molte polemiche politiche. Gli otto però non graveranno sul contratto di servizio, ma rientrano nel piano economico dello smaltimento delle macerie, ha spiegato l'amministratore Rosettini. I venti saranno compresi nel contratto di servizio, facendo delle economie e senza alcun onere aggiuntivo. Il personale si è reso necessario per l'SM, che ha avuto picchi di richieste di ferie, secondo quanto spiega Rosettini, in contemporanea di 34 dipendenti. Le ferie sono sacrosante e così si è dovuto ovviare con questa delibera.